In questo momento quello che si sta facendo a livello centrale, come è stato detto dai miei colleghi in precedenza, è uno studio di seroprevalenza che ha una finalità di indagare quante persone sono venute in contatto col virus. Non ha una finalità individuale, ha una finalità di quantificare, oltre in maniera più precisa rispetto alle stime che già comunque esistono, quante persone sono venute a contatto col virus per capire qual è la circolazione. Noi oggi sappiamo, e questo dato è molto importante, soprattutto in previsione delle misure che possiamo e dobbiamo adottare, ci sono stime variabili, ma sostanzialmente con variabili da regione a regione il numero è abbastanza limitato. Cioè stimiamo che oltre il 90% delle persone, degli italiani, non è venuto in contatto col virus, che vuol dire che è suscettibile all'infezione. Questo fa sì che ovviamente la circolazione del virus, nel momento in cui non stiamo molto attenti, non siamo molto puntuali nel adottare le raccomandazioni, la circolazione del virus può riprendere in maniera più intensa. Oggi noi abbiamo evidenze che la circolazione del virus si sta attenuando anche nelle aree dove c'è alta circolazione. Questo è un risultato positivo, dato dalle misure e data dalla capacità e la volontà degli italiani di raggiungere e di adottare e di far proprie le misure di distanziamento e di isolamento. Questo però è un dato che abbiamo acquisito, che stiamo acquisendo, ma che dobbiamo anche mantenere nel tempo e trovare quel giusto bilanciamento per fare in modo che non riparta. 90% di persone, è una stima ovviamente approssimata, probabilmente in Lombardia sono un po' di meno, ma saranno 85-86-87%, in altre regioni sono anche 95-96%, vuol dire che la larghissima parte della popolazione è ancora suscettibile. Per darvi un'idea, raggiungere l'immunità di greggio vuol dire avere 70-80% della popolazione che è stata immunizzata o comunque entrata in contatto con il virus. Questo è un target molto lontano da noi in questo momento e quindi questa è la motivazione. Il fatto che ci sia un golden standard in questo momento non c'è un golden standard.